eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre prima di iniziare vi invito a supportare il tg code lasciando un bel mi piace ma soprattutto iscrivetevi perché stanno sempre per arrivare sempre più bombe sempre più notizie non dovete perdervi il video giornaliero ieri sera vi ho pubblicato il trailer ufficiale di urzichistan e anche l'anteprima delle mappe e delle armi della season one lo trovate in alta a destra mi raccomando vedrete in azione il ram e l'xrk stalker che è un cecchino della madonna la mappa della grecia e la mappa del mattatoio ve lo lascio in alta a destra con tutti i dettagli salvatevi poi il primo link in descrizione che è la mia collaborazione con inebba che vi permetterei di risparmiare tantissimi soldi sull'acquisto videogiochi nuovi e giochi del passato gift card abbonamenti chi più ne ha più ne metta e poi come sempre siamo in live alle ore 14 sulla piattaforma viola proprio ieri stiamo approfondendo i primi gameplay della season one con il ram che state vedendo proprio in azione il cecchino e via dicendo trovate il video in alto con il recap di tutte queste novità in anteprima della season one ma andiamo avanti perché vi devo dare delle chicche incredibili proprio sulla nuova stagione partiamo dal pre download vi ricordate alcuni giorni fa vi avevo riportato queste informazioni relativa al pre download della patch 1.34 che introdurrà domani la season one quando si potrà scaricare la season one allora xbox e pc sentite bene potranno iniziare a scaricare la season one soltanto a partire da domani alle ore 19 per pc però c'è una precisazione perché da ieri sera su battle.net vi faccio vedere lo screen diversi utenti stanno già scaricando la stagione 1 quindi verificate su battle.net se già vi è partito come era successo per le precedenti patch peso 32 gigabyte su playstation il peso è leggermente diverso su ps4 sono circa 15 gigabyte su ps5 sono circa 25 gigabyte quindi se non avete mai scaricato il gioco se non avete mai giocato a coda oppure avete canciato tutto lo dovete scaricare qui potete vedere i nuovi pesi cioè su ps4 per scaricare direttamente mv3 vi serviranno 67,214 gigabyte su ps5 130 gigabyte circa quindi il peso rispetto al pre download o meglio al download completo quando avevamo la patch 1.33 è aumentato di un bel po però tranquilli che il peso non è così di 100 gigabyte come è stata una delle ultime patch ma si uscilla tra i 15 e 25 su playstation pc intorno ai 30 35 gigabyte su xbox stesso identico peso ma il pre download è esclusivo soltanto per pc battle.net quindi no steam e playstation a partire da domani mattina a scaglioni ecco qui ragazzi vi faccio vedere questa immagine che vi fa vedere appunto nel dettaglio come sarà composto orzigistan che giocheremo a partire da domani con 11 punti di interesse e 27 aree così almeno è molto più comprensibile rispetto alla variante che stiamo giocando attualmente su zombies ma parliamo invece di una cosa molto interessante vi ricordo in alto a destra i gameplay del ram del nuovo cecchino e delle nuove mappe per chi se li fosse persi ieri sera c'è stata una call tra gli sviluppatori quindi raven software e diversi content creator e ho fatto un recap di tutte le novità più importanti perché warzone a mio avviso cambia e di molto perché come sapete già cambia il movement già cambiano l'introduzione delle nuove armi già cambia la ma sentite bene che cosa sta per accadere allora le statistiche di warzone verranno ripristinate quando verrà rilasciata domani orzigistan quindi ragazzi si riparte da zero sia per quanto riguarda la br sia per quanto riguarda ritorno quindi statistiche azzerate la mappa di orzigistan di warzone verrà lanciata inizialmente con 100 giocatori e hanno detto che comunque monitoreranno per aumentarli strada facendo ed è più piccola del 20 per cento rispetto ad al masara per warzone batte royale quindi per la versione br di appunto urzigistan saranno introdotte già a partire da domani la playlist singolo coppie terzetti e quartetti e saranno disponibili per tutta la stagione quindi finalmente ragazzi non dovremo più bestemmiare per dire perché hanno tolto coppie perché hanno tolto terzetti perché hanno tolto quartetti bene tutte e quattro le playlist br saranno disponibili per tutta la stagione mentre per malloppo probabilmente avremo quartetti per ritorno ancora ci devono dire la maschera antigasse vi ricordo che si potrà equipaggiare manualmente ma sarà il primo oggetto accessibile nell'interfaccia del zaino i gettoni del gulag potranno essere conservati all'interno dell'inventario e li potremo anche dare ai nostri compagni di squadra torneranno i cecchini a colpo singolo la distanza dello slide sul pavimento quindi sul terreno sarà influenzato dal livello del suolo la durata della granata fumogene è stata ridotta del 20 per cento è stata migliorata anche la visibilità da quanto ha detto la raven software in questa call con la maschera antigasse quindi la visibilità è stata migliorata durata della protezione dello spawn ridotta da 10 secondi a 2,5 secondi inoltre ha annunciato la raven software che sono previste modifiche ad armi ed equipaggiamenti per rendere il meta sano domani ragazzi salvo imprevisti faremo una maratona che ci porterà dalle 14 fino alle 19 all'arrivo della nuova season con notizie in anteprima le patchnot e quant'altro così non appena saranno rilasciate le patchnot potrò darvi tutte le notizie tutti i dettagli nel 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 migliore dei modi con i cambiamenti alle armi agli equipaggiamenti e via dicendo domani saranno delle patchnot penso almeno da un'ora altra cosa molto interessante come già avevo detto che le partite sur zikistan e dureranno solo 20 minuti questo a quanto pare perché la raven software ha velocizzato i cerchi quindi al momento la mappa dello zikistan sarà la mappa che permetterà le partite più veloci in assoluto se ben vi ricordate nelle vecchie partite si oscillava tra i 25 e 26 minuti la durata totale di una partita quindi questa sarà anche la partita e quindi la mappa che permetterà a quanto pare partite non dico velocissime però comunque 20 minuti una partita br sono molto interessanti col movimento nuovo i nuovi miglioramenti qualità della vita vi dicendo sembrerebbe essere molto interessante vi faccio vedere invece in anteprima questo bundle che è stato riportato ieri da mister dark jd che era stato anche lui invitato negli studi per provare in anteprima la season one arriveranno dei bundle non sono ragazzi pay to win perché ovviamente in zombie se non ci sono giocatori umani da contrastare ma sempre dei giocatori dell'intelligenza artificiale però saranno introdotti nuove meccaniche come abbiamo visto su dmz infatti questo bundle che sarà principalmente darà dei vantaggi principalmente su zombies include infatti un potenziamento dell'arma già al secondo livello il costo sarà 2800 call of duty point quindi circa 28 dollari questo per farvelo vedere vi faccio vedere anche in anteprima questa clip che vi fa vedere invece il livello 100 del battle pass della season one probabilmente questa sera dovrebbe essere rilasciato il trailer perché viene rilasciato sempre uno o due giorni prima ieri sera non è stato rilasciato il trailer del battle pass stasera dovrebbe essere atteso con tutte le novità e contenuti più interessanti qui come state vedendo a livello 100 troveremo nolan che vi avevo anticipato sarà l'operatore caratteristica il volto di questa season one di mv3 il braccio destro di makarov e con questo chiudiamo a mio avviso un video informativo importantissimo spaccatelo immediatamente con un bel mi piace iscrivetevi per non perdere tutte le prossime novità sul mondo di call of duty noi ci vediamo alle 14 in diretta e domani per un nuovo video